Partenza valida, Francesco Rivagliati, Angelo Lella, rispettivamente terza, quarta e quinta corsia, arriviamo nella prossima serie quattro, sono gli atleti, il vittore tra l'altro Brandi e Lella, fanno parte dalla reciclata del 96, Francesco Rivagliati, altro giovane, l'affalto a questo padre, dalla tumore del pubblico da parte della presa lituana. Attenzione, ultimi metri, 13 metri e 86.